Noi non possiamo più parlarci, perché tu hai dimenticato come si fa. Ma dico io, cos'hai nella testa? Dopo di tempo segui, non so, come un bambino, poi come dicevo che mi sentite per andare in studio, ci stai in arrivo in dettata. Arrivo al culmine dello stress, il lavoro per chi mangia il buon umore, le energie, l'ansia. Oh, je voudrais, tant que tu te souviennes, de jours heureux, nous étions amis, dans cette immorabilité plus belle. Oh, l'acqua mi ricorre, mentre io resto in piedi con un dito alzato fino alla fine. Con un dito alzato fino alla fine. Oh, l'acqua mi ricorre, mentre io resto in piedi con un dito alzato fino alla fine. Oh, l'acqua mi ricorre, mentre io resto in piedi con un dito alzato fino alla fine.